Sì! 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 Andiamo! Assolutamente, però facciamo vedere quelli che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra valdichiana, che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra polchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Montesanza Vino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti. Mettiamo poi il fegato e la polchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno. Un saluto da parte di Romina Ermini per Sport a Km Zero. Eccoci qua al nostro spazio dedicato al campionato di eccellenza Girone B. Da una castiglionese sconfitta in casa dallo zaino in teprato alla capolista che è stata battuta dalla squadra di Chini. Dal buon momento del Porta Romana che batte per 4 a 3 il Foiano, fino alla Sina Lunghese che spugna il Pontassieve di Mister Brahi. Ma adesso andiamo a vedere i risultati classifili. Baldaccio Bruni, Rondinella 1 a 3, Castiglionese e Zanite Prato 0 a 1, Chiantigiana Prato 2.000 a 5 a 0, Colligiana Figline 2 a 0, Firenze Ovest e Fortis Juventus 1 a 0, Mazzola Valdarbia Signa 0 a 0, Porta Romana a Foiano 4 a 3, Sina Lunghese e Pontassieve 4 a 2. Andiamo a vedere adesso la classifia. Capolista come sempre il Figline con 55 punti. punti. Seguono Colligiana e Castiglionese con 45, Zanite Prato 44, Rondinella Marzocco 42, Fortis Juventus 40, Pontassieve e Mazzola Valdarbia 38, Sina Lunghese 35, Lastrigiana 34, Baldaccio Bruni 31, Foiano Finanze Ovest 28, Porta Romana 27, Chiantigiana 21, chiuda ancora il Prato 2000 con 8 punti. Aspettando il recupero nuova Foiano-Lastrigiana valido per la 27esima giornata, andiamo a rivedere insieme quanto è successo nell'ultimo fine settimana, dove sotto le lente di incandimento senz'altro era il big match Colligiana-Figline, vinto dai Biancorossi per 2 a 0, grazie alla doppietta di Mugnai. E gara decisa nella prima fazione di gioco con la Colligiana, che superata la prima fase di studio, sblocca la partita su azione manovrata di cross di Cianciolo, da poco entrato in campo, che trova pronto Mugnai alla deviazione vincente. Il Fein abbozza una certa reazione, ma da andare ancora in gol sono i locali. Nel finale del primo tempo, ancora con Mugnai, che mette a segno in questo modo la sua doppietta. Nella ripresa Mister Tronconi le prova davvero tutte per cercare di rimediare il risultato, con le incursioni di Zellini e Marini, che probabilmente meritavano migliore fortuna. Risultato che non cambia e al triplice fischio di chiusura è la Colligiana a portare a casa un successo pesante. Battuta a vuoto quasi a sorpresa della Castiglionese, che al faralli lascia l'intera posta in palio allo Zenit Prato, grazie al gol partita messo a segno da Falteri e alla mezz'ora della prima fazione di gioco, che è entrato in area, spedisce il pallone alle spalle di Tegli, con un gran sinistro. La Castiglionese comunque è squadra viva e reattiva e reagisce in maniera immediata, e specie nella ripresa risfiora più volte il pareggio con Borghesi e Capogna. In commento adesso post partita di Mister Roberto Fanni. Non abbiamo sicuramente fatto benissimo, anche se secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo e siamo stati puniti alla prima verticalizzazione che ha fatto lo Zenit. Tra l'altro diciamo una palla che è passata anche in maniera fortunosa con l'inserimento di Rosi da dietro le linee e entrato in area di rigore ha messo questa palla dietro al limite dell'aria, tiro di Falteri incrociato, pallo interno e gol. Quindi al primo tiro, la prima verticalizzazione in pratica che abbiamo subito lo sono andato in vantaggio. Su questo vantaggio poi ci hanno costruito la partita, si sono difesi bene, con determinazione, chiudendoci tutti gli spazi. Noi abbiamo fatto secondo me anche bene il primo tempo, soprattutto diciamo in fase di costruzione, un po' meno di finalizzazione e poi al secondo tempo abbiamo provato a creare pericoli. Non ci siamo riusciti anche perché lo Zenit si è chiuso molto bene, ha difeso bene nella propria metà campo, è sempre pronto poi a ripartire in velocità, ha giocato con grande determinazione, ci ha tratto i tempi anche per creare qualcosa di importante. Comunque secondo tempo. Restando in zona playoff si registra ancora una sconfitta del Pontassiega a Sinalunga con i rosso-blu di mister Agostino Iacobelli che fanno un bel balzo in avanti. Gara giocata in maniera intensa dalle due squadre che sanno regalare gol e spettacolo con il botte e risposta di Biagi su rigore. E la risposta di Salvadori, poi arriva la doppietta di Bencini che fa volare la quotazione dei rosso-blu che ad inizio ripresa chiude in anticipo il match con la quarta rete di Corsi e Pontassieve che prova a riaprire la partita con Taflai al novantesimo minuto, ma è ormai tardi per cercare di recuperare il risultato. Il commento post partita di mister Agostino Iacobelli. Siamo partiti molto bene, siamo dati in vantaggio, siamo stati un po' pure facile recuperare su un'azione di ripartenza, però in linea di massima ieri molto bene. Se guardiamo il risultato e l'andamento delle reti è una squadra comunque che non ha mai mollato. No, io infatti ragazzi su 2-0 a Filippino Tempo gli ho detto che non bisognava ritirarsi ma cercare di fare il terzo e sono stati bravi. Adesso la classifica come la valti? Ma l'obiettivo nostro Antonio è quello di raggiungere più presto la salvezza e poi sederci a tavola con la società e fare un programma. Programmare anche perché ci sono i giovani? Molto bravi, molto bravi. Papini ha vinto anche quest'anno, questa settimana un torneo con la nazionale nel mirino di tante squadre. Eh, lo so. Siamo con il 2005 e poi c'è un'età papabile che molti vogliono, molti richiedono e quindi sono felice per lui. Adesso è il prossimo avversario? Eh, abbiamo il derby con il Foiano a mezzo di euro, però è una partita che se dovessimo uscire indenni da quella partita là penso che al 99% saremmo a raggiungere con l'obiettivo. Grazie. Grazie a te. Andata a Foiano domenica? Sì. Il turno poi fa registrare sconfitte pesanti per Baldaccio Bruni e Foiano con le due formazioni a retine invischiate in zona play-out. Gli undici di Mister Borgo cadono sotto i colpi della rondinella Marzocco fra le mure amiche, malgrado erano riusciti a sbloccare la partita con autorità quando approfitta di un errato disimpegno della difesa avversaria e non lascia scampo a Pecorai. La reazione degli ospiti comunque c'è e si concretizza con la doppietta di Renna e nel mezzo la rete di Fantechi. Non va meglio agli amaranto di Mister Filippo Zacchei che escono sconfitti dal campo del Porta Romana in una gara che valeva il doppio contro una diretta concorrente per la lotta salvezza e alla fine non sono bastate le tre reti segnate da Acatullo, Doppietta e Ruffini. Anche il Foiano fino all'ultimo ha dato davvero tutto, adesso Mister Zacchei deve far recuperare in fretta ai suoi ragazzi energie fisiche e mentali perché mercoledì allo Stadio dei Pini arriverà l'Astriciana e giocarsi un'altra finale in chiave salvezza per una gara tutta da vivere e da vincere. Vantaggio dell'1-0 di Acatullo, la mia squadra non so perché ma ha smesso di proporre quello che doveva proporre e il Porta Romana senza far niente si è ritrovato sul 3-1 e lì abbiamo perso la partita, poi il secondo tempo abbiamo cercato di riproporre tante cose, abbiamo fatto due gol, c'è stato un fuorigioco su Manchia che non lo so se era fuorigioco, un gol annullato credo regolare perché il mio giocatore dice di averla presa con la pancia però l'arbitro ha visto così e come hai detto te tre gol in trasferta e usciamo in tasca niente e con tanta mare. Nel ringraziare Romina Ermini per il lavoro straordinario che sta portando avanti su Sporta Kilometro Zero ci piace concludere questa rubrica dedicata al girone B del campionato di eccellenza con uno sguardo alla classifica cannonieri che vende sempre al comando con 18 reti, falomi della Castiglionese e Tempesti del Signa seguiti da Gabriele Vangi e Cristian Rufini a quota 12, Mattia Cagianesi, Zenete Prata a quota 11 e Alessio Antonio Giovanni a quota 10. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata con i nostri programmi su Sporta Kilometro Zero. Andiamo! Andiamo! L'assistenza facciamo l'assistenza diciamo sia fuori che interna alla città che anche fuori quindi facciamo un'assistenza completa 24 ore su 24. Significa che state sempre vicini ai vostri clienti? Sempre vicini. Senza di loro non possiamo stare. Mettere!